Mancano pochi minuti alla mezzanotte del 29 giugno del 2009. Un treno merci col suo carico di GPL partito da Trecate in Piemonte, diretto a Gricignano in Campania, deraglia alle porte della stazione di Via Reggio. Dalla prima cisterna scappano 35.000 litri di gas liquefatto e infiammabile. Alle 23.49 in via Ponchielli una stradina che corre a fianco dei binari e l'inferno. Le fiamme avvolgono persone, case e auto. I morti saranno in tutto 32. Lorenzo Piagentini ha due anni, Mario Pucci 90, la più piccola e la più grande delle vittime. In mezzo a altre vite spezzate è una notte che scoperchierà la scarsa attenzione nella prevenzione del rischio per il trasporto di merci pericolose nel sistema ferroviario italiano. Quattro anni dopo la strage, il 18 luglio 2013, il gruppo di Lucca decide per il rinvio a giudizio di 33 imputati e fissa il 13 novembre 2013 la data d'inizio della prima udienza del processo. Tra gli imputati ci sono tutti gli ex vertici di ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, ex AD di FS, Michele Mario Elia, ex AD di RFI, Vincenzo Soprano, ex AD di Trenitalia, i manager della ditta Cima Riparazioni, anche dirigenti e tecnici di aziende ferroviarie austriache e tedesche addetti al controllo e alla manutenzione dei carri merci. Gli imputati, a vario titolo, devono rispondere di disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali. Sarà un processo lungo, articolato, che ha sempre accertato le responsabilità dei vertici delle ferrovie e delle società coinvolte, ma la cui lentezza nei vari gradi di giudizio verrà sempre denunciata dai familiari delle vittime, nel frattempo riuniti nell'associazione Il Mondo che Vorrei, ma la prescrizione, ripetono i familiari, non vuol dire assoluzione. I deficit di riparazione erano non occasionali, bensì sistemici, e la manutenzione avrebbe evitato il disastro, scrivono i supremi giudici, nella sentenza di condanna del gennaio 2021. Ma il reato di omicidio colposo plurimo viene prescritto, e allora il processo è tutto da rifare. Siamo ad oggi, al quinto grado di giudizio, l'ultimo, a distanza di 15 anni da quella terribile notte. Nel frattempo, Mauro Moretti ha compiuto 70 anni. Chetti Riga, Sky TG24. Grazie.